Giorgia Meloni non presenzierà né testimonierà in aula in occasione del processo per diffamazione contro Roberto Saviano. L'indagine in questione è stata aperta dopo la querela presentata dalla stessa presidente del Consiglio, che era stata definita dallo scrittore di Gomorra, Bastarda, a Piazza Pulita sulla 7 nel corso di un dibattito sui migranti e sulla gestione degli sbarchi in Italia. Ieri Saviano è tornato a commentare l'assenza di Meloni e sul proprio profilo Instagram, ha scritto. Dopo aver deciso di querelarmi non accetta il confronto nella stessa sede in cui lei mi ha portato, preferendo fare i processi nelle feste in piazza, in televisione o sui social media, ovunque, tranne che in tribunale. Poi, la stoccata del giornalista. Meloni in tribunale non verrà mai. Sapete perché? Perché ha paura. Paura di affrontare le conseguenze della sua stessa propaganda. Sa che le parole che ha speso negli anni sul dramma dell'immigrazione sono abominevoli e sono false. Ecco perché non verrà mai in tribunale a ribadirle. Meloni ha paura perché sa che sul banco degli imputati non ci sono io ma lei, Salvini, Minniti, Piantedosi. Sa che le parole dette e gli atti compiuti restano in decine di video, in articoli di giornale, sui suoi stessi social media. Meloni mi ha querelato. Ma non a scampo. Le sue menzogne le stanno già presentando il conto. Ed è solo l'inizio. Ed è solo l'inizio. Ed è solo l'inizio. Ed è solo l'inizio. Grazie a tutti.